Possibili soluzioni di mitigazioni del rischio è questa l'ipotesi prospettata dal sindaco di Calatabbiano Giuseppe Intelisano durante l'incontro al municipio sul tema del dissesto idrogeologico del Monte Castello e dei relativi pericoli per l'incolumità pubblica. Un tavolo tecnico convocato dal primo cittadino tra i tecnici del comune, i rappresentanti della diocesi di Acireale, proprietaria della terra vecchia di Calatabbiano e la società che gestisce il castello. Si è discusso della problematica relativa ai rischi idrogeologici presenti sui versanti della collina, oggetto da decenni di ripetuti incendi dolosi e interessata da una frana attorno al maniero restaurato. I proprietari dell'area del castello hanno ricordato che esiste un progetto di riqualificazione idrogeologica in attesa di pubblicazione di un nuovo bando. Il sindaco Giuseppe Intelisano a fine incontro si è assunto l'impegno di sollecitare presso le sedi istituzionali la sua ripubblicazione perché il territorio comunale è fortemente soggetto a rischio idrogeologico, ha dichiarato, ed è stato duramente colpito da eventi alluvionali.